Il PD chiama alle urne i cittadini. Domenica prossima, 30 aprile, dalle 8 alle 20, si potrà votare per eleggere il segretario democratico. La sfida è tra Matteo Renzi, Michele Emiliano e Andrea Orlando. Siamo l'unico partito della nazione che sceglie e legge il proprio segretario in maniera democratica. Ed è un confronto che si è aperto all'interno del partito tra i tre candidati e domenica 30 ci sarà appunto la raccolta dei voti per chi sarà il nostro segretario nazionale. Per le modalità di voto si può visitare il sito primariepd2017.it. Imponente la macchina organizzativa. 60 seggi in tutta la provincia, 10 solamente nella città di Como. Ci sono più di 200 persone volontarie inserite all'interno di questo percorso che daranno una mano a far sì che tutte le persone possano esprimere la propria preferenza per uno dei tre candidati. Come ho avuto anche la fortuna di avere qui i tre rappresentanti, i tre candidati segretari nazionali e quindi è una grande opportunità, è una grande attenzione anche da parte del nazionale sulla nostra provincia, sulla nostra città di Como. Grazie. 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 Grazie.